Attenzione, uscita squadra, modulo antincendio Sierra Mike per contrada Fanusa, via Cristoforo Colombo. Sierra Mike per Fanusa, via Cristoforo Colombo. Centrale da Sierra Mike, prova radio. Centrale da Sierra Mike, confermato, radio in funzione, siete autorizzati ad uscire. Ricevuto Centrale, Sierra Mike parte dalla sede. Ricevuto. Centrale da Sierra Mike. Avanti Sierra Mike. Siamo su posto, cominciamo l'intervento. Ricevuto Sierra Mike. Uscita squadra Autobotte Sierra Bravo per contrada Isola, via delle correnti. A disposizione con i Victor Foxtrot sul posto. Sierra Bravo, contrada Isola, via delle correnti. Centrale da Sierra Bravo. Avanti Sierra Bravo. Confermiamo prova radio, deve scaldarsi il motore. Possiamo partire appena fatto, interrogativo. Affermativo, confermatemi l'uscita quando sarà necessario. Ricevuto. Centrale da Sierra Bravo, parte dalla sede. Ricevuto. Centrale da Sierra Mike. Avanti Sierra Mike. Siamo in intervento, ma è finita l'acqua. Puoi mandarci qualcuno oppure autorizzarci ad effettuare carico acqua, interrogativo. Permesso da Sierra Bravo. Siamo in intervento, con l'acqua caricata, possiamo raggiungerli e dargli sopporto. Siamo in intervento, con l'acqua caricata, possiamo raggiungerli e dargli sopporti ad effettuare carico acqua. Ricevuto Sierra Bravo, confermo. Raggiungete prima Sierra Mike e poi la postazione incontrata a Isola. Sierra Mike da Centrale, hai copiato il passaggio interrogativo. Affermativo. Rimaniamo sul sito in attesa di Sierra Bravo per il carico acqua. Centrale da Sierra Mike. Avanti. Puoi mandarci una squadra con battifuoco? Affermativo. Attivo subito la partenza. Attenzione, squadra con battifuoco Sierra Tango. Richiesta uscita per contrada a Fanusa via Cristoforo Colombo in supporto a Sierra Mike. Sierra Tango, uscita a Fanusa via Cristoforo Colombo. Centrale da Sierra Tango, questa è una prova radio, danni conferma. Confermato Sierra Tango, radio in funzione e autorizzati ad uscire. Mi dai conferma del QTH di Sierra Mike? Località Fanusa via Cristoforo Colombo. Casomai quando sei in prossimità dell'area mettiti in contatto con loro per raggiungerli precisamente. Ok, partiamo dalla sede QRX. Ricevuto. Centrale da Sierra Bravo. Abbiamo raggiunto Sierra Mike e ci accingiamo a passare acqua al modulo. Ricevuto. Poi dammi conferma quando riparti che i Victor Foxtrot restano in attesa in Contrata Isola. QSL. Ambulanza Sierra Zulu. I carabinieri richiedono urgentemente la presenza al bivio del carrozziere per una persona anziana medico a bordo. Sierra Zulu, bivio carrozziere. Centrale, Sierra Zulu prova radio e chiede autorizzazione a partire. Permesso da Sierra Bravo. Registrato, un attimo. Confermato, Sierra Zulu partite subito. C'è probabile urgenza per cui potete usare gli acustici secondo il bisogno con la massima attenzione. Ricevuto. Sierra Zulu parte dalla sede. QSL. Avanti Sierra Bravo. Sierra Bravo dalla centrale. Centrale da Sierra Mike per un QTC. Avanti Sierra Mike. Credo che l'autobotte sia in zona negativa per la radio. Comunichiamo di aver finito il carico d'acqua e la Sierra Bravo è appena partita in direzione dell'isola. Permesso da Sierra Bravo. Ricevuto Sierra Mike. Avanti Sierra Bravo. Sì, Centrale, ti confermo il messaggio di Sierra Mike. Eravamo dietro la collina, ora abbiamo raggiunto i Victor Foxtrot e rimaniamo in stand-by. Ricevuto Sierra Bravo. Permesso da Sierra Zulu. Centrale da Sierra Bravo. Registrato break di Sierra Zulu. Sì, Centrale, ti confermo il messaggio di Sierra Mike. Avanti Sierra Zulu. Centrale da Sierra Zulu. Siamo sul posto. Ricevuto Sierra Zulu. Fammi sapere che novità ci sono. Permesso da Sierra Tango. Registrato, ricevuto Centrale. Avanti Sierra Tango. Sierra Mike da Sierra Tango. Sto girando al bivio del negozio di alimentari, mi dai conferma del tuo QTH? Primo bivio a 50 metri sulla destra, poi avanti di un centinaio di metri ci trovi, dovresti già vedere anche il fumo, cambio. Positivo, vi vedo. Positivo, vi vedo. Centrale, Centrale. Sierra Tango sul posto. Permesso da Sierra Zulu. Ricevuto Sierra Tango, registrato. Sierra Zulu un attimo di bianco che ha una bassa. Sì, siamo partiti in direzione PS con ferito a bordo. Ricevuto Sierra Zulu. Centrale da Sierra Mike. Avanti. Comunichiamo fine intervento, restiamo in attesa di direttive. Ok, ricevuto. Un minuto di bontà. Sierra Bravo da Centrale, Sierra Bravo. Avanti Centrale. Mi dici la situazione, interrogativo? Anche qua siamo quasi a conclusione intervento, passo. QSL, mi confermi il tuo QTH Isola? Positivo. Sierra Mike da Centrale. Avanti. Raggiungi subito Sierra Bravo in QTH Isola e mettiti a loro disposizione. Ricevuto, mi porto dietro anche Sierra Tango. Negativo. Sierra Tango da Centrale. Avanti. Porta di un QTH carrozziere, a disposizione dei Charlie Charlie. Ricevuto, partiamo subito. Permesso da Sierra Zulu. Registrato, avanti. Siamo giunti al PS, pronti in attesa. Permesso da Sierra Tango. Registrato. Sierra Zulu a conclusione potete rientrare. Avanti Sierra Tango. Siamo partiti in direzione carrozziere. Hai copiato, interrogativo? Ricevuto, Sierra Tango. Centrale da Sierra Zulu, ripartiamo dal PS per la sede. Ricevuto, Sierra Zulu. Centrale da Sierra Bravo. Chiusura e intervento, chiediamo il permesso di rientrare. QSL. A tutte le unità confermata chiusura servizio, potete rientrare. Ricevuto, Centrale. Sierra Tango, da Centrale. Sierra Tango, da Centrale. Sierra Tango. Avanti. Comunico, fine servizio. Appena concludete, potete rientrare. Roger, finito in questo istante, ripartiamo dal posto. Permesso da Sierra Mike. Siamo in sede, QRT. Ricevuto, Sierra Tango. Sierra Tango, e ricevuto, Sierra Mike. Centrale da Sierra Zulu. Avanti. Permesso da Sierra Bravo. Registrato. Sierra Zulu è rientrato in sede e fa QRT. Avanti Sierra Bravo. Sierra Bravo rientrato in sede e anche da parte nostra QRT. Centrale da Sierra Tango. Siamo in sede anche noi. Ricevuto, ok, grazie a tutti.